Io ho bisogno di aiuto da qualcuno su lì, non ce la faccio da solo, tutti sti mesi per niente, io sono anche stanco, io voglio tornare a casa, voglio stare su un divano steso con mia moglie vicino a lei, che non passare la vita qui da solo, che quello che voglio è a casa, non è qui in mezzo, pronto? Non so che ce la posso fare, ma in questo momento è difficile, non so dove, non so veramente dove sbattere la testa, e adesso io ce la sto mettendo tutta, ma qui non scendo neanche di un metro verso sud.